Sindaco Capacci, una manifestazione di ricordo delle vittime della mafia, partecipatissima, diciamo, oltre 2.000 persone, presente Imperia, ecco un commento su questa iniziativa, quali Comune ha partecipato e aderito? Sicuramente, ho ospitato volentieri questa manifestazione, ringrazio Libera per averciato il Comune di Imperia, quale luogo dove svolgere questa manifestazione, che è a un livello che supera i confini della provincia e supera i confini della regione, infatti oggi qua sono per esempio i ragazzi, i studenti che sono a Liguria e oltre. È una giornata di ricordo ma deve essere anche una giornata di input che deve fare capire a tutti quanti che la mafia esiste, è un problema e come tale deve essere combattuta a tutti i livelli, a partire dalle scuole fino ai massimi livelli istituzionali. Ecco, il Comune cosa può mettere in campo per favorire questo processo? può mettere in campo eventi, può mettere in campo punti di vista e comunque essere sempre sul pezzo nel senso di trasmettere questi concerti ai ragazzi, ma io credo che non ce ne sia bisogno perché penso che i ragazzi di oggi, che saranno gli uomini di domani, hanno già ben presente di come stiamo parlando.